Io sono Alessia, sono non nata ma cresciuta qui a Calcata, questo era un locale che si chiamava Altroquando, che è stato un'associazione culturale, un posto di ritrovo per gente di qui e chi veniva da fuori, ci sono stati fatti concerti, feste, ci sono passati personaggi forse anche famosi, come Alex Britti, forse Niccolò Fabbi, io personalmente mi ricordo Luce che è un'amica con cui siamo cresciute, parte insieme qui, Luce Maioli con il suo papà Walter hanno fatto concerti qui e ne ho un bellissimo ricordo, mia mamma credo che sia stata nel gruppo di persone che hanno iniziato questo posto, che lo hanno creato e gli hanno dato vita, mia mamma Rossella che ancora vive qui è tra le persone che hanno dato vita a questo posto, almeno se non ricordo male, sì che... Guardo una festa di compleanno di 18 anni di un'amica che viveva qui Vanessa, che è stata fatta qui e nel 2000 noi avevamo 19 anni, quindi sì, fino a prima, ancora 2000, aiuto... 2000 ne avevamo 19, quindi sì, 99 è stata la festa ma probabilmente ancora andava avanti